Quando perdi qualcuno che ami lo hai perduto per sempre Nel profondo del tuo cuore Sta cercando di parlarmi e sento che è disperata Tra le ombre della mente La signora della foto vuole che tu vada lì Lì dove vedi? Può accadere qualunque cosa E un viaggio oltre la vita Sta per cominciare Kevin Costner Il segno della libellula Emily! Dragonfly, dal 12 aprile al cinema Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!